Un uomo di 62 anni è morto per le ferite riportate in un incidente sul lavoro a Rende. Secondo quanto si è appreso, l'uomo era impegnato in alcuni lavori di tinteggiatura in un'azienda nella zona industriale di Rende. L'uomo si trovava su un ponteggio quando per cause ancora in corso di accertamento è precipitato nel vuoto da un'altezza di 3 metri. Sul posto sono giunti immediati i soccorsi e il lavoratore è stato portato nell'ospedale di Cosenza, dove è morto poco dopo il ricovero. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per stabilire le cause dell'incidente.